Nella fase 2 delle strutture sanitarie non ci sarà spazio per puntare sul Vittorio Emanuele come Covid Hospital. La Regione ha deciso che gli ospedali individuati nella fascia territoriale che copre le province di Caltanissette e Agrigento sono il Santelia e il Nosocomio di Ribera. Per il centro Onisseno sono previsti 60 posti e 8 di terapia intensiva. Anche nella fase 2, nonostante il livello di contagi che sull'isola è al minimo, si prevede una rete per la copertura ospedaliera destinata al contrasto del Covid. Una scelta che non si distacca da quelle del recente passato che hanno sempre favorito il Santelia di Caltanissette a discapito dell'ospedale di Caposoprano. In ogni caso tutte le strutture dovranno mantenere il pretriage e aree grigie per posti letto da destinare a pazienti con sintomi da Covid da sottoporre a tampone. Non si registrano nuovi casi di contagio in città. Intanto via libera per il protocollo sanitario Sicilia Sicura, che è contenuto nella nuova ordinanza emanata dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il documento, oltre all'applicazione digitale di assistenza sanitaria riservata a quanti arriveranno nell'isola, non essendo né residenti o domiciliati, istituisce anche la USCAT, Unità Sanitaria di Continuità Assistenziale Turistica, e fornisce delle linee guida per favorire la più ampia diffusione del protocollo, che sarà in vigore da oggi fino al prossimo 30 settembre. I titolari delle società di gestione di trasporti e di qualsiasi struttura ricettiva, anche a carattere extra alberghiero, saranno chiamati a promuovere il sistema di registrazione sul sito Sicilia Sicura. In pratica, i turisti provenienti da oltre lo stretto dovranno registrarsi all'app. Ai turisti verranno erogati servizi in lingua italiana e inglese, con informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati. Settimanalmente verrà redatto un report sull'andamento degli ingressi in Sicilia. Saranno le USCAT a occuparsi del monitoraggio, presa in carico e assistenza agli eventuali casi sospetti da Covid-19 fra i non residenti o domiciliati nell'isola. In particolare, in caso di positività di un soggetto, si applicheranno i protocolli vigenti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ordinanza è specificato, inoltre, che l'isolamento domiciliare conseguente all'accertamento della positività al contagio, dove non sia necessario il ricorso a culo ospedaliere, è organizzato dalla Regione Siciliana senza oneri a carico dell'interessato.